Passo in avanti nel cantiere dell'ex Ponte Bailey a Montevarchi. Questa mattina è arrivato il nuovo impalcato che andrà a sostituire definitivamente la vecchia struttura che dal 2006 serviva come collegamento tra la Ginestra e Via della Sugherella. Un'opera dal costo complessivo di circa 790.000 euro, 350.000 finanziati dall'amministrazione comunale e il resto grazie alla PNRR. Stamattina l'arrivo dei bilici ha richiesto la sospensione temporanea del traffico. Un'operazione delicata e complessa come lo sono stati finora i lavori. Nonostante le difficoltà spesso dovute a prolungamento di tempi ma per gli accordi da prendere con RFI naturalmente come dicevo dover bloccare la linea ferroviaria non è una cosa che si può fare in autonomia e non è una cosa naturalmente semplice. Quindi abbiamo dovuto a volte aspettare i tempi dettati da RFI ma come dicevo è un'opera storica questa di grande impatto sulla città, complessa e quindi è normale che quando si fanno opere di questa portata ci siano delle complessità organizzative che però poi con la buona volontà di tutti sia dell'ente e degli uffici che ringrazio sentitamente ma anche della ditta appaltatrice si sono svolte nel modo più fluido possibile. Nei primi giorni del mese di luglio è previsto l'inizio delle operazioni di montaggio? Se tutto va bene dovremmo finire entro luglio ma vediamo perché naturalmente c'è il collaudo quindi sono fasi di dettaglio che poi prenderanno il tempo che meritano perché appunto l'opera è grande e l'importante è arrivare in fondo entro l'estate. C'è riservo infine sul nome che sarà dato alla Nuovo Ponte? Ci stiamo lavorando per l'inaugurazione naturalmente ci sarà anche il nuovo nome.